Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Stiamo aspettando soldi o del PNRR o della regione, ma costa ovviamente, non voglio dire la cifra, se no dicono stupidagine, però stiamo aspettando o fondi regionali o PNRR. Ovviamente i comuni sono d'accordo, sono sotto l'aspetto progettuale, mancano risorse. Secondo messaggio, Elisabetta. La bellissima Via Altinate ha il cinema altino, chiuso e abbandonato da una vita. Novità? Questa è una coltellata. È una cosa che non riesco a risolvere. Mi dà un fastidio tremendo, è un buco nero della città. Io ho provato in tutti i modi, ma non mollo fino alla fine, fino alla fine del mandato intendo. È incredibile. Bisogna risolvere questo problema. È difficile perché è protetto, è un'opera protetta la sovrintendenza. Io, sia con il solito prima che quello attuale, ne ho parlato proprio oggi e stiamo cercando di risolvere il problema. Per me è importantissimo perché lì a Tinate è nel via. Come? Come? Perché è un manufatto privato? È privato, non è? È privato? Sì, essendo un manufatto privato come può risolvere il problema? Collaborando con la sovrintendenza, col privato, un certo soluzione e trovando un investitore che è interessato a fare qualcosa che vada bene la sovrintendenza. Non certamente un supermercato, tanto per fare chiarezza subito. C'è qualcosa di avveneristico, non so. Una biblioteca, non so. No, una biblioteca deve essere qualcosa che darei a dire se non funziona la cosa. Per cui, ma non so, un ristorante con il progetto del fin de sé. Come concordi praticamente? I concordi lo stanno ristrutturando, giusto? Il cinema concordi? Sì, ma no, diventano due negozi. Sì, ma non c'è un ristorante anche lì, mi sembra, avevo capito che c'era un ristorante anche all'ultimo piano. Sono due negozi. Ci sono negozi e sopra c'è il ristorante. No, sono due negozi e sopra due appartamenti. Se non vado a memoria, è stato autorizzato tempo fa, altro che Covid, aumenta i prezzi, hanno rallentato. E' un brutto posto anche quello sotto l'aspetto, però bene, è già autorizzato, per cui basta che faccio i lavori. Andiamo con il terzo messaggio, Elisabetta. Abito a Santo Osvaldo. Sono vent'anni che sento che devono rinnovare l'illuminazione pubblica, ma ci sono ancora lampadine che non producono più da quanto consumano. E' vero, c'è una gara in affidamento, non solo Santo Osvaldo, Santa Rita, tutto quanto in comparto. Un po' ritardo, un po' tanto ritardo, anche perché spesso mancano i colpi illuminanti. Vi faccio un esempio. C'è una cosa che mi sta molto a cuore, Basilica Santa Giustina. I colpi illuminanti sono particolari, perché devono rispettare l'architettura della Basilica. E' tutto buiola. E' un anno che cerco di far sì di illuminare questa facciata, perché è una facciata importante e bellissima. Mi ricordo che quando è Natale illuminiamo, è stupenda. Ha un anno di ritardo. Però, ritornando alla domanda iniziale, stiamo procedendo ai lavori. E' vero, ha ragione. Non è solo Santo Osvaldo, è Santa Rita, è tutto il comparto da rifare. E' già finamente la gara. Terzo, quarto, ultimo messaggio, Risabetta. Siamo sicuri che i finanziamenti bastino per tutti i cantieri sparsi per la città, compresi quelli che saranno del tram? Enrico. Domanda interessantissima. Bisogna? Allora, il PNRR noi abbiamo ricevuto moltissime risorse, quasi 500 milioni. Bisogna a tutti i costi non perdere un euro. Infatti siamo neanche in difficoltà sotto l'aspetto all'amministrazione, perché i nostri funzionali e tutti quanti sono concentrati su questo argomento. Abbiamo ricevuto parte di aumento prezzi per parte di opere del 10%. Mi auguro, spero, ce la facciamo ad avere le risorse per fare tutte, anche in mente perché c'è un problema nel momento prezzi, per ottemperare tutto quanto. Io sono abbastanza ottimista, fino a ora sta andando bene, nel senso appalti. sono fortunato, come sempre, ho dei dirigenti molto bravi, molto sotto l'aspetto, veramente bravi che si occupano di tutto quanto e risolvono i problemi. Per cui sono fiducioso che ce la faremo a fare tutto quanto. Padova cambierà in maniera incredibile tra Fondo e PNRR del Comune. Il ferro di Stato, la provincia, la regione, l'Università, Padova cambierà in maniera radicale. Non domani, in 6-7 anni. Eh beh, sì, questo l'abbiamo molti nodi sul faccioletto, come dicevo la settimana scorsa, il vice sindaco Micarizzi. Senta, prima parlavamo del tram, non so, ci sono altri messaggi, credo sia il quattro... No, allora, di queste serie non ce ne sono, ne manderemo ovviamente subito dopo altri quattro. Al inizio parlavamo prima dei messaggi, parlavamo del tram, degli autobus, ovviamente, però ci vengono i parcheggi. Il parcheggio alla Pradina, che è quello lì che è diventato una storia interminabile, io mi auguro venga terminato. Invece, poi, collego entrambe le domande, così può rispondere ad entrambe, gioco di parole. Io ricordo, quando lei è stata eletta, una delle prime volte che è venuta nella trasmissione a Primo Sinterpares, disse io voglio, piazzi su elezione, che sia tolto il parcheggio. E da sei anni ne parliamo, ne parliamo, però comincia a entrare nella testa della gente questo pensiero che lei ha avuto sei anni fa. Domanda, secondo lei quanto si avvererà che quella piazza non avrà più le macchine, ma sarà una piazza vuota, libera? Io spero, mi auguro, di riuscire a far sì che dentro il mio mandato si possa fare. Qua è il problema di base, vorrei essere chiaro. Il problema di base è che ha un risorso importante per quanto riguarda l'APS. In conseguenza, con le difficoltà che abbiamo anche adesso di rinunciare a un parcheggio che dà un alto reddito, la gente continua ad essere in coda, aspettare questo parcheggio. Nonostante abbiamo aperto in Agro Europa un parcheggio nuovo, coperto, nuovo, perfetto, le abitudini sono dure a morire. Però, Senrego, se vogliamo usare più mezzi pubblici, il togliere quello vorrebbe dire che la gente che va in centro deve usare i mezzi pubblici. No, vuol dire che passa il tram davanti trapparmi, però è una piazza che merita di essere valorizzata in altra maniera, non un parcheggio obiettivamente. Abbiamo risolto il problema, tramite il parcheggio della Pardina, tramite altri parcheggi, abbiamo risolto il problema. Sono sogni miei, io sogno spesso volentieri le cose, qualche volta riesco a fare, qualche volta no. Questo vuol dire che io moro, ma è una cosa importante. Si è visto durante l'ultimo anno quanto può essere bella questa piazza senza auto. È chiaro che bisogna risolvere il problema, il parcheggio in generale. E la Pardina? La Pardina, io ho espresso un sogno a fine anno, durante questa stampa ho detto, sogno di vedere un auditorio nuova, essendo un'area protetta e avendo collaborazione per quanto riguarda la fondazione, spero. Ma è un sogno, ho due cose non verificate. La fattibilità, la fattibilità e la sostenibilità, sono due cose importanti. Mi piacerebbe che ci fosse un auditorio, ma una Pardina. Mi piacerebbe che ci fosse un auditorio, però, ripeto, devo essere sostenibile. Sostenibile vuol dire che chi utilizzerà questo auditorio, che non vuol dire auditorio e teatro, da mille posti, persone, con eventualmente un garage interrato, deve pagare una certa cifra. Cioè non è che il Comune può sobbarcarsi una gestione di questo tipo. La sostenibilità non è stata verificata. Primo, non è stata verificata, è un'altra parte molto importante. Se funziona, l'altro bonus famoso, per cui anche la sovrintendenza ha espresso... Quando ho detto che è un sogno, ho detto che è un sogno, non è un progetto, non c'è niente infinitivo. Tutti quanti dicono, ma no, aspettiamo un attimo. Io ho detto, questo è un sogno, mi piacerebbe pensare che sia un palazzo bello, importante, su quella area lì. Tutto il resto vuol dire che diventa prato, tutto verde. Per cui è da verificare se è fattibile. È un sogno, appunto. Certo. Messaggi, andiamo con il primo, Elisabetta. I campi nomadi, chi paga le utenze? Perché sorride? Viene da ridere perché le utenze le pagano. Qualche volta le pagano le nomi, qualche volta non so chi le paga. Come non so chi le paga? Non so, tanto non vado in campi nomadi, per cui non so esattamente chi le paga. Sappiamo tutti. Ma intanto, loro le pagano, qualche volta fanno lanciamenti un po' volanti, abusivi. E non possono essere, ma non è giusto nemmeno questo? No, non è giusto, però quando vengono accertati che non sono regolari, vengono interrotte e vengono fatti in maniera tale che paghino. Ma per esempio, quando le porto un paraone, se c'è la polizia urbana che ferma un cittadino di Padova, che corre, lo ferma e gli dà la multa, controlla i documenti. C'è qualche straniero, qualche uomo di coloro che gli dà la macchina, insomma chiudono un po' un occhio. Questo è il classico, un opinione della barra. È un opinione della barra, però succede questo opinione della barra. Però, vedete, è difficilissimo. Vi faccio un esempio. C'è un campo nomadico, magari abusivo. Ma gli dici, forse lo dici, bisogna mandare via. Benissimo. Ma se accorgono con i minori, non si tocca. Perché per l'Italia non si può toccare con i minori. Non so fare il primo appartamento occupato, però per sempre. Per cui, da parte, i problemi si vanno risolti nel concreto. E anche sotto l'aspetto umano, attenzione, in Piazza Gasparotto, c'erano persone che dormivano a giaccio, a due gradi, a tre gradi. Ho chiesto alla Polizia di Stato se fanno un posto in Polizia. Ma non solo, questo al nostro assessore, per quanto riguarda, si dice, si dia una mano. E quanto riguarda le associazioni del posto, a chi dia una mano. Cioè, secondo me, è facile dire cose, ma bisogna farle. Farle è una cosa diversa. Farle bisogna essere molto pratici. No, le faccio una domanda, se in virtù. Lei prima ha detto, sui campi nomadi, bisogna, se io sono abusivi, io vado lì per togliere il campo. Vado io, nel senso formato. Sì, no, ma faccio il ragionamento da bar. Bisogna togliere perché sono abusivi. Lei dice, ci sono i bambini e i bambini non si possono toccare di mangro. Tutto giusto. Ma anche il campo abusivo è una cosa fuori regola. E quindi io faccio un campo abusivo, porto cinque bambini e posso rimanere di tutta la vita. No, non riesco a capire. Non funziona così. Quando sono minori vanno tutelati. Quando sono anziani vanno tutelati. Disabili vanno tutelati. Primo. Secondo, passo avanti un campo nomadi e vedo i bambini che giocano in mezzo all'acqua. In mezzo al fango. Ah, è possibile questa cosa qua che capita. Per cui faccio gli intervini ai servizi nostri. Dico, mettete un po' di ghiali. Cerchiamo di migliorare la faccenda. Non è facile. Però poi trovi la Mercedes fuori, nel campo nomado anche. E questo siamo, ritorniamo, il corso da bar. Il corso da bar è difficile. Abbiamo risolto, però quando sono bambini, anziani, disabili, diventa difficile. Tutto difficile. Però non è un bar nel vedere la Mercedes davanti al campo nomadi, qui vicino, che vi riconosco. Anche qualche macchina ancora più grossa. Non è tanto da bar. Andiamo nel secondo messaggio. La bellissima Via Altinate al cinema altino chiuso e abbandonato. L'abbiamo letto prima di già vedere questo, da una vita. L'abbiamo già letto questo, l'abbiamo già visto prima. Andiamo con... L'area di Ponte Vigo d'Arzere, confinante con il capolinea del tram, che è completamente abbandonata. Novità? C'è un ex supermercato chiuso, privato, se non sbaglio. E quello penso si riferisca. C'è un ex supermercato chiuso, abbandonato, che è in vendita, se non sbaglio. È privato. Privato e faccio a intervenire. Questa è la migliore occasione per dire quanto è pericoloso il profilare dei supermercati. Perché se nel tempo vengono chiusi, perché c'è un eccesso di supermercati, succede questo, che abbiamo un immobile grande, un parcheggio grande non utilizzato. Per cui è per quello che siamo molto attenti quando si apre un supermercato. Non abbiamo mai concesso, lo ripeto un'altra volta, mai un metro quadrato di autorizzazione per quanto riguarda i supermercati. I 1500 metri non servono l'autorizzazione, possono aprire come e quando vogliono. Certo. Ultimo messaggio in questa serie, Elisabetta. Sono un utilizzatore di mezzi pubblici. Tra ritardi e corse che saltano non capita affatto raramente. Non parliamo poi di mezzi strapieni a certe ore, dove si rischia di farsi male. Ho spiegato prima che c'è un problema del saloporto pubblico, non di padre, del Veneto e italiano. Con il Covid hanno perso circa il 20-25% dei passaggieri. In conseguenza le aziende sono in grossa difficoltà sotto l'aspetto economico. Tutte le amministrazioni provinciali, comunali, regionali stanno intervenendo per trovare il problema, per dare una mano ai vari enti, ai vari società che fanno un trasporto pubblico. Non è facile, però bisogna assolutamente risolvere il problema. Lei è anche Presidente della provincia e oggi sul giornale il Prefetto ha chiesto ai sindaci confinanti di fare accoglienza ai migranti. Com'è la situazione? Che ho chiesto anche io ai miei colleghi di attivare il SAI. Il SAI è il servizio di accoglienza integrata. Cos'è? Vuol dire che accogliendo le persone di difficoltà vengono pagate totalmente per quanto riguarda il Ministero dell'Interno. Purtroppo stanno aumentando, complice anche il terremoto che è stato Turchia e Siria e di conseguenza stanno aumentando queste persone. Devo giustificare un po' i miei colleghi sindaci perché spesso e volentieri, attenzione, ci sono dei comuni di mito che stanno attuando, tipo Rubano, Mignano, quelli più grossi stanno attuando il SAI, il servizio di accoglienza integrata. I piccoli comuni non hanno spazi, spesso e volentieri, per cui sono in difficoltà. Ma la previsione è che ne arrivano molti? Oggi sì, purtroppo. E il prefetto chiede veramente, datemi la mano se non andiamo in difficoltà. Non costa nulla. Il secondo, il SAI ha un grosso vantaggio, ha successo di integrazione al 90%, perché non solo c'è l'accoglienza, lavoro, istruzione, scuola, per cui è una cosa molto positiva, e paghi il Ministero dell'Interno, non ha un impatto assolutamente economico sui piccoli comuni. Io spero che, se ognuno trova anche due posti letto o quattro posti letto, avendo tutti questi comuni attorno, 102, si risolve un po' il problema. Ripeto, molti comuni non fanno già, che sia chiaro. Sono in piccoli e sono in difficoltà. Certo, è stato chiarissimo. Non andiamo in pubblicità, poi l'ultima parte del Sine Corrisponde, tra poco. Grazie a tutti.